Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e questo è l'ultimo gameplay di Amnesia Rebirth. Insieme scopriremo il finale di questa nuova serie qui su Isola delle Rose TV che è piaciuta tantissimo a voi, c'è un video che sta facendo tantissime views, vi ringrazio per l'affetto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, attivate la campanella delle notifiche naturalmente, cliccate il pollice in alto ed entriamo in Amnesia Rebirth, oh yeah. Cosa dirà? Tasi Trinano, solo in gravidanza avanzata, si sta gradualmente trasformando in un mostro, ah finalmente ce lo dice, mentre cerca di raggiungere una città nel deserto e i sopravvissuti della sua spedizione, è intrappolata nella profondità di alcune rovine, sotto le dune, deve fuggire a un misterioso portale, e un misterioso portale sembra essere la sua speranza migliore. What? Ragazzi, guardate che strano, ah ok, per un momento la grafica era strana, comunque vi stavo dicendo, no non stavo dicendo niente, stavo pensando di dirvi, e se non avete visto il video precedente andatela a guardare, andatela a guardare, andatela a guardare ve lo lascio qui sotto in descrizione, bene, e adesso entriamo qua, si va, si entra nel portale, Oddio 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 Non dire parolacce Siamo su youtube Non si dicono parolacce E adesso Me ne posso andare Non è che arrivano i mostri di nuovo Mi stai prendendo in giro Fatto Ok Quindi facciamo l'altro Oddio Oddio Non morire Oddio Oddio Non ci posso andare E lo so che fa male Male di miele Come dice la canzone dei cosi Devo farlo, devo farlo Vai, girati Girati amico mio, girati Vai Ok, no Adesso facciamo l'altro Ce la devo fare, ce la devo fare Scrivetevi al canale, raga Ragalli Ragalli, iscrivetevi al canale, ragallelli Ecco Quindi? Oddio Per poco stavo per morire Dai, sbrighiamoci Che devo fare? Non mi posso muovere, raga Stiamo entrando nel portale Ho vinto un trofeo, viaggiatrice No, sono un viaggiatore, sono un maschietto No, la bambina è morta Mio Dio, ma questa bambina così, dai Ma proprio Cioè, fa proprio Troppo triste, dai Questa è la cosa più triste che abbia visto in vita mia No, non piangere No, non piangere Oddio Entriamo, entriamo Vediamo cosa succederà Rilassati, rilassati Ma dove siamo? Non lo so Non lo so Questo cos'è? Ma dove siamo adesso, raga? Un altro? Allora, vediamo Io sono venuto qui Ma non sono sicuro Di essere nel posto giusto Ah Questa? Non la apre Quindi questa bisogna spostarla sicuramente per farla Per farla funzionare Vediamo Quindi questo non lo può Se lo mettiamo lì Vediamo Prendiamo l'altro Yeah Vieni amico mio Perfetto Vediamo se c'è qualcosa che possiamo prendere qua Questo cos'è? La luce Leggiamo qua, dai Sicuramente c'è qualcosa da leggere qui No? Va bene, niente Quello per la cosa Guardate Questa è la signora Camar Figlia di Codor Vi ricordate la scorsa La scorsa puntata? Camar Figlia di Camor Qui non c'è niente Paff Non c'è niente Ah, qui c'è qualcosa sicuramente da leggere Vediamo Questo cos'è? Leggiamo qui, dai Questo sicuramente si legge Il più grande avanzamento del processo di raffinazione è stato opera di Ayandra L'Apostata Che chiese asilo nella nostra città dopo aver subito l'ira dei regnanti della fortezza ardente L'Apostata per provare il proprio valore suggerì l'utilizzo di un decotto di fiore di Ea Emerish Per cancellare la memoria del soggetto Riducendo così la spostatezza derivante da sessioni multiple di stimolazione Di stimolazione Stimolazione di che? Scusa ma qui stiamo parlando di rapporti? Stai non ho capito Scrivetelo nei commenti Ciò impressionò enormemente Temaku Figlio di Kedor Cugino di Khmer Che prese la variante sotto la propria ala I due lavorarono assieme per molti anni Fino a quando non furono rivelati i crimini dell'Apostata Cosa che ne causò l'esilio inappellabile Che tristezza Quanti esili Allora qui non c'è niente Qui abbiamo visto tutto Ce ne ho pure sta lucina che fa sempre bene Qui c'è qualcosa da leggere? Anche lì c'è qualcosa da leggere Non lo legge Bene allora qui c'è qualcosa da leggere sicuramente Vediamo cosa dice Non dice niente Non capisco come mai Qualcune cose le può leggere Alcune no Ah matches 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 Prendili matches Grazie Bene Adesso andiamo con questo E ce la portiamo là Quindi dobbiamo fare tutto il giretto Se non sbaglio si Mettiamo fino a qua Allora bambina Mi devi lasciare in pace No 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 La bambina non la voglio C'è la bambina la voglio Cioè mi piace Mi piace Mi piace questa bambina Però Veramente Quando io gioco Devo giocare Cioè fatemi sapere anche nei commenti Se vi è piaciuto amnigia Cosa vi è piaciuto Cosa non vi è piaciuto Io come sempre nel finale Vi dirò Quello che penso No Non ti ho detto di girare Chi ti ha detto di girare così velocemente Prendi vai E adesso Prendiamo l'altro Adesso prendiamo tutto Possiamo aprire là Certo questa parte è un po' Come dire Un po' così Dai Vai vai Corri 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 Brava Mi piace giocare con I miei Vai Vai Si è acceso tutto Cos'è che è scritto? Kamer figlio di Kodor Cos'è? Devo andare là sopra? Oddio Oddio Ah Oddio Che sta facendo Sta scannerizzando Guardate Lei si sta trasformando In un mostro comunque Io l'avevo detto Che alla fine Lei si trasformava In un zombie C'è un mostro Quindi devo salire qua sopra? Che devo fare? Ciao Ciao Come ti trovi amico? E ab Beh Che devo fa? Che devo fa? Cioè come se stesse C'è sto cosa da fare? Quindi Lo ha preso E lo sta portando via Mamma mia che creepio No Secondo me bisogna fare sta cosa E salire qui un attimino Vai Bisogna mettersi là Lo sapevo Perché ti fai questa cosa? Ti fai del male Olla Peppa Che paura No Oh no Io me ne vado Ciao Adesso si apre quella cosa La sta scannerizzando Vediamo cosa mi trova Scusate Noi speriamo che non mi trova Malattie gravi Perché ti sei buttata? Cosa? 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 Quello che hai fatto è una cosa sbagliatissima Ma che ridi? Io pensavo che tu fosse una sbagliatissima O che c'era Che qualcosa Si è giusto Ah Cosa? Entriamo qua Devo fare di nuovo là? Nel cervello Che uco Non mi piace nemmeno a me Non piace nemmeno a me Eh sì 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 Si è Minz che Malata Chi è? Mi dispiace E come la puoi salvare? Ah dammi la tua Anima e ti salverò E per questo l'hai diventata un mostro Aiuto tra queste mura Seguimi Dove? Ok seguiamola dai Ci siamo? Ok sali Brava Speriamo Speriamo che la salvi Dove stiamo andando? Che bello Andiamo dai Andiamo A mietere il grane Dai Il grane Ok vai Piano piano Eh vabbè però tu sei pure incinta Non mi dico che ci arriva pure il mostro Che devo fa? Oddio che paura Dove andiamo? Qui? Accendiamo Il fiammiferino Dai Stiamo andando Verso la signora Ragazzi Il finale Di Cos'è? Mi posso buttare? Non avere paura Non avere paura Non avere paura Ce la possiamo fare Ce la facciamo Anzi prima di tutto Carichiamo Questo Secondo voi Ce la fa Che c'è a terra? Credo che ci fosse Ce fosse qualcosa a terra No niente Dove siamo raghi? Dai Non lo fa? Ah Questo Yeah Vai È proprio buio Oh mio dio Secondo voi ragazzi Sono un bravo intrattenitore Boh Bisogna andare qua? Di nuovo le luci Io cammino piano Chi è? Corriamo Va Corriamo Corriamo ragazzi Ecco la luce Usciamo via da qua Ciao Un altro ricordo Sicuramente tristissimo Ah la bambina che non c'è più Il libro Alice nel paese delle meraviglie Dai non piangere così Io ho finito di guardare Grey's Anatomy Guardiamoci il bambino Speriamo che ti salva Sì Secondo me Non potrai vedere nessuno qui Allora dai Dove andiamo? Mi sono bloccato Oddio Che si fa qui? Chi è? Bello 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 Saliamo Spero di essere nel posto giusto Vai C'è qualche mostro qui Ah lì Oh no Vabbè Ci sono queste cose Un altro ricordo Questo ricordo Sembra meno sfoscato C'è un ricordo Un altro ricordo Ma che lingua parla scusa? C'è inglese Ma chi accento ha? È una russa? Ha fengoso la valle Non è italiana secondo me Lo spero C'è qualcos'altro? Ecco apriti Ma qui le cose si stanno mettendo veramente male Cosa è da leggere? Una mano Ma qui le cose si stanno mettendo veramente Allora stai Cosa? Qui? Questo è il posto che posso aiutare a Marie Vitae è La vita contro la malattia L'avevo capito Ok ci sediamo qua Vita L'energia che ha allenato il portale Certo Perché E' così facile La prima volta Non ti preoccupi Madre Deve essere un modo Per farlo Qui Lei non accettirà Beh niente Bisogna andare là Ragazzi Bisogna buttarsi qua Vediamo Quindi la tua energia Eh no Ti devi uccidere Secondo me Secondo me Colto sa Colto sa Dov'è? Sì Vero Vediamo se si può aprire qua Apriamo Andiamo verso di qua La stazione La stazione La stazione De che? Ci mi posso buttare Qui e morire Vabbè Non ci vado Rag Vediamo cosa c'è qua E qui ci sono una serie Cioè queste sono le Le cose Sai Qui sicuramente c'è qualcosa da leggere Guardate Lo sapevo Io Io Teoti Sotto il segno di Olan Alla seconda chiamata Dell'ottavo levata Documento Quando segue Quanto segue Il flusso del vite Ha raggiunto l'equilibrio In tutta la rete E seguito le modifiche Della sesta fabbrica Ciò è in linea Con i calcoli Più recenti Indica che avremo Un flusso Ciò più sufficiente Deve sostenere L'imperatrice E soddisfare Le esigenze Della popolazione Finché non potremo Collegare Nuove fabbriche Tra cento levate Tra cento levate Sì Documento In suo nome Eterno Vabbè sì Bisogna fare Sta cosa Con i nomi Con le cose Sì sì Tutto così Semplice Qui dai Tutto semplicissimo Ce la faremo Ce la faremo Noi dell'isola Delle rose Ah Guardate cosa ho trovato Matches Ma Lì c'è un bambino Parla Leggiamo Io Adaro Sotto il segno Di Idu Alla seconda Chiamata L'odicesima Levato Documento Quanto segue Il ciclo Riferimento Procede Come indicato Un'applicazione Di elisir Di fiore Di Emerish In modo Da congelare Il ricordo Del dolore Applicazione Di materiale Estrattiva Per aumentare Il livello Di Ade Che cosa Dici In modo Da massimizzare Il potenziale Il soggetto Dai Un altro ricordo No Vediamo cosa fa qui Questo non lo può girare Oh mio dio ragazzi Questo ultimo capitolo È molto Brainy Io Adaro Sotto il segno Di Ola Nella quarta chiamata L'ottava documento Quanto segue Il processo Di visualizzazione Dei ricordi È stato Infriffido A Suvar Breve scariche Di memoria Sotto ottimale Combinato Il nuovo Elisir Il ciclo Di memoria Raggiungere Le piene applicazioni Di nuovo 57 Il nostro obiettivo È quello Di ridurre Il ciclo Di dolore Per migliorare La percentuale Del processo Nel pubblico Temacuo Coordinato E così Deve essere Accendiamo Questo Raga Non lo possiamo Salvare Ah bravo Cos'è questo Secondo me Queste cose Bisogna portarle Da qualche parte Bene E questo libro Non lo gira Non l'ha accesa Mamma mia Vabbè La bambina La bambina Mi diceva di nuovo Cosa vuoi Sì sì Vediamo Vediamo cosa c'è qua Un altro ricordo Sarà un ricordo Lungo Sarà un ricordo lungo Raga Il problema È sviluppato Il problema Nel pubblico Stimulazione Le nervi Sfile 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 Senza speranza non c'è paura. Beh sì, vediamo cosa abbiamo qui da leggere. Non mi dico che ci sono altre cose da leggere, no? Soggetto 145SV, l'estrazione iniziale è evidenziata da una classe lavoratrice, con struttura familiare consistente di un partner in una doppia ruola, prole al momento della cattura, raccolto potenziale addondante, secondo protocollo concentrare future estrazioni sui contatti iniziali con il partner e sugli anni formativi della prole. Inoltre i tipici ricordi forti sono rileati relativi al luogo di cattura e legami a parentela. Allora cosa dice questo? Soggetto 144SV, l'estrazione iniziale è evidenziata da una classe lavoratrice, nessuna famiglia prossima, una forte connessione con un singolo individuo, raccolto potenziale nella media, concentrare future estrazioni sui contatti con l'individuo, ignorare tutti i ricordi precedenti all'età adulta, in quanto nessun legame familiare indica in genere l'assenza di materiale positivo da utilizzare. Questo qua? Come fa a leggere questa cosa? Soggetto 143SV, l'estrazione iniziale è evidenziata da una classe superordinata, famiglia, una famiglia prossima, questo sono io, raccolto potenziale scarso, questo sono proprio io, concentrare future estrazioni sui ricordi più precoci, ma considerare anche l'eliminazione. No, 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 questo non sono io. E qui abbiamo bisogno del... qualcosa. Vediamo, c'è qualcosa qua. Andiamo dall'altra parte. C'è qualcosa da leggere? Non mi dire. Bisogna spostare questo, vabbè. E questi sono i cosi di Adriano. Oh, che bello. Eh, questo lo so. Ah, sì, me la ricordo. Quindi vuole la... la cimiettina? Andiamo qua. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Quindi bisogna spostare sto cosa qui. Spostiamolo. Portiamocelo via. Lo sapevo. Lo sapevo. Vai. Cosa? Che ha? Cosa devi fare? Per divincolarti da chi? Divincolarti così, vede. Per divincolarti. Non morire. Ancora? Devo divincolarmi? Oh, rilassati, oh. Ora le ruba il bambino. Che devo fare? Scappiamo. Cosa è questo? È il mostro finale? Raga, sta succedendo. Ti stai trasformando. Quindi quello lì era come un mostro, vabbè. Ma che sta succedendo? Ma non mi dire che quello lì è un mostro che è venuto e mi ha ucciso. Portiamolo insieme a noi. Non saprei. Non saprei. Ok. Quindi. Ecco, bisogna fare qua. Forse. Sì, vai. E come ci vado? Come ci vado? Là sotto? Non saprei. Io me la voglio portare con me. Ah, vai. Ah no, prima bisogna fare questo. No, non bisogna fare niente. No, non bisogna fare niente. Vai, parlami. Eh, bisogna mettere il coso, raga. Eh sì, abbiamo bisogno del quello. Quindi, ola, questo va via. Questo va via. Non ti preoccupare, non ti... Non ti preoccupare. Questo lo mettiamo in basso. Vai. Uno. E dov'è l'altro? Che ho appena buttato a terra. Ce n'era uno che ho buttato a terra, raga. Dov'è? Oddio, no. Dov'è? Questo. Vai. Prendiamo il vita e va. Perfetto. No, no. Rimetti. Quello col fuoco. Quello col quello. E il fuoco quello? Beh, spero di sì. Vediamo. Non lo fa? Ah, questo. Questo lo mettiamo qua. Bene. Questo lo mettiamo qui. Speriamo. Cos'è questo? È il fuoco. Scusate, ma... No, no, no. Questo volevo fare. Questo lo metto qua. No, nemmeno. Quindi questo lo dobbiamo togliere. Questo lo dobbiamo togliere. Questo non ci serve. Questo nemmeno. E mettiamo in basso questo. Per forza, ragazzi, deve essere così. Uno. Dov'è l'altro? Yes. Poi si sposta questo. Questo deve essere col fuoco. E questo non ha il fuoco. No, no, secondo me bisogna trovare quello col fuoco, scusate. Ah, questo non ha quello. No, quello col fuoco. Dove sarà? Qui? Questo non è quello che ci serve. Quello col fuoco. Quello col fuoco è qua. Questo. Ci siamo. Lo sapevo. Poveraccio. Non vorrei essere dalla parte... Lo brucia? Lo sta bruciando. Quindi? Bisogna tenerlo. Sta per morire. Vai. Poveraccio. Vai. Quindi la vite va là. Sì. Sì. No, si dice vite comunque. Questo è latino. Vai. Vediamo che succede. Raga, iscrivetevi al canale se siete arrivati fino a questo momento. Grazie mille per tutte le views che mi state dando. Per amarmi. Per... Cosa succederà? Cosa succederà? Ai, 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 ai. Nemmeno io. Nemmeno io. Cioè, tu ti fai pungere in pancia? Povera bambina. Aia. Scusate. Va bene. Sei proprio incinta, tu, eh. Cosa ci dirai adesso? No, mi sa... Mi sa di no. Che carino. Cioè, dove? Qui? Dobbiamo ritornare. Forse. Scusate. Vediamo se questo funziona. Ah, bisogna fare sta cosa qui. Apriti sesamo. Entriamo. Dove ci sta portando? Dove ci porterà? Ragazze e ragazzi. Tenetevi forti. Allacciate le cinture. Perché su Isola delle Rosi di Fu si fanno delle cose sconce. No, questa è la bambina dopo che la bambina è morta. Oh, quindi un nuovo trofeo ragazze e ragazzi, torturatrice. E dove stiamo andando? Ma poi con tutta questa tecnologia, perché? Perché succede questo? Non lo so. Secondo me potevi non essere francese. Che dolce. Mi piace troppo quando le francesi dicono parolacce. Ma se funziona, è valuta per te, piccolo. Beh, la lingua francese è molto dolce, eh. Io che ho avuto delle fidanzate francesi, quindi lo posso sapere. Dai, apriti. Ah, vai. Guardiamo da qui. Wow, ma dove siamo qui? Qui siamo nel... Qui siamo nei sogni, non siamo nemmeno nella realtà. Qui siamo in una situazione eterea, sognastica, film ludica. Qui si apre la porta e me ne posso andare. No. Io non so perché penso che possa uscire da dietro. Sono fissato con il dietro. C'è chi è fissato dal davanti e mi sono fissato col dietro. Allora, dai. Che gioco meccanico. Oh, ciao! Guardiamoci, c'è qualcuno. C'è qualcuno? Ciao, sono Govinda! La bambina. Cosa? Questo mi ricorda The Last of Us. La mia voce è veramente finita. Sì, ti sei fatti. Utilizziamolo, dai. Come on, open up. How do I get the doors open up, Snape? No. No, 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 no. Oh, no. Stop, goddamn, you stop! Take us back! Shit! E adesso? Ci ha portato lontano. Eravamo lì pronti ad uscire da questo inferno. Da questo incubo della malora. Dove ci sta portando? Oh, no! Quella era dall'uscita! Volevo uscire! Sì, sì. Se mi fate uscire. È lì davanti, eh. Come esco da qua, raga? Sì. Mi sa che questo succederà anche a te. Guardate quello di prima. No, non ce l'hai per niente. Chi è? Guardate, chi è? Ma è cattiva quella lì. Quella signora. Non mi devo fare vedere dalla signora, forse. Non mi devo fare vedere. Silenzio. Ti prego, non mi vedere. Ti prego, non mi vedere. No, mi ha visto. Mi ha visto, cavolo. Cosa? Cos'è? Sta per cadere. No, 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 no. Ma come sta accadendo? Sì, sì, vai, vai. Prendi, prendi, prendi. Che guaio. Questo mostro non mi piace, se devo essere sincero. Chi è? Chi è? Vai, vai, lasciami. Lasciami, lasciami, lasciami. Oddio. Vai, prendi queste cose. Guardiamoci la pancia un attimino. Questo momento è difficile, eh. Non mi piace questo mostro. Vai, muoviti. Questo mostro non mi piace, ve lo dico. Apertamente. Qui non c'è niente. Dove devo andare? Lasciami in pace, lasciami in pace. Mi ha ucciso di nuovo. Nooo. Che tristezza. Vediamo dove si sveglia. Ma non lo so se sei più forte di lei. Perché ogni volta ti uccide. Certo, tu ritorni. Dai, dai, dai. Fammi entrare. Eh, bisogna andare avanti, ragazzi. Vediamo se entriamo là dentro. Entriamo là dentro. Eh, quando tristiamo la pancia un attimino. Oddio, ce l'ho fatta. Stati silenzio. E non parlate, ragazzi, ragazzi. Vediamo se vado qua. Entriamo, entriamo. Cosa? Nooo. 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 Lasciami in pace. Lasciami in pace, bavolarda. Mi ha ucciso. Ce l'avevo quasi fatta. Vai. 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 Entra. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti, forse. Cos'è questo silenzio? La famiglia si è distrutta. Eh, i bambini sono morti. Il marito pure. Lei non è più arrivata a casa. Che tristezza. Ok, alziamoci. Basta, bambina mia. Mi lasci in pace. Vediamo se c'è qualcosa qua. Non c'è niente. Dai, scendiamo dalle scale. Cioè, cos'è? La scala, sì. Piano, piano, poco, poco. Piano, piano. Ho delle cose da dire nel finale, ragazzi. Quindi guardate il video fino alla fine perché devo dire delle cose riguardo a questo gioco. Delle cosette un po' particolari che non so se piaceranno a tutti. Questo cos'è all'inizio? Vai. Vai. Beh, non mi dire che ancora c'è il mostro qui. Ti prego, no. Qui sotto non ci va. No, loro non ci sono, dai. Quindi andiamo là. Chi è? Oddio. Nascondiamoci. Nascondiamoci. Spero non mi veda. Ok. Sì, ma dove dobbiamo andare? Raga, non so che fare. Andiamo qua. Perfetto. Ok, ok, ok. Ce la posso fare. Scendiamo qui sotto. Bene. C'è un mostro. C'è un mostro che stava mangiando, ma noi non ce ne frega niente. Noi continuiamo a imperterridire il nostro viaggio all'interno di Silent Hill. Dove fa? Chi è? Vai, vai. Yes. Entriamo. Che devo fare? Pulsante? Andiamo dall'altra parte, va. Cosa devo fare? Ok. Cioè? Qui c'è un altro. Cos'è questa cosa? Questo non c'è niente. Un altro ricordo. Penso proprio di sì. No, no, non c'è niente. da le fabbriere. È stata nostra task portare la sua regia a un endo. E ho scoperto. Ho ancora di la formula Kieta. Se un compagno, straniero, exploratore delle ruine troverà questo, prendere il vial. La carne di rosa in la vitae e spiegherlo nel sistema. Finita il mio lavoro. Enda la sofferenza. Perciò la nostra fulenza. Beh, qui dice che ha il... il filtro. Basta! Possiamo arrivare a loro, Amari. Dobbiamo. Lo spero. Quindi questo non lo può far funzionare. Vediamo allora cos'è. Capsule. Un set di capsule contenente un fluido... Un fluido rossastro. Un fluido rossato. Carica in... Iniettore. Un iniettore. Secondo me bisogna prenderlo qua. Bene. Quindi poi questo si mette qua. Vai. No. No? Non ci credo. Eh? No, no. Ma forse questo si gira? Bene. Bene. Benissimo. Anzi malissimo. Anzi malissimo. Beh, è la lanterna. C'è da qualche parte la lanterna? Cos'è? Prendiamolo, va. Cosa? Questa non c'è niente. Non ho idea. Raga, che è successo qui? Cosa? La frattura. Questa è da questo? Ah, da qua. No, no. Di nuovo quel mostro. No, no. Di nuovo quel mostro. Ti prego, non mi vedere. Dove? Dove? Lascia mi pace. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Quale frattura diceva? Lasciami in pace. Lasciami in pace. Non mi prenderai. Questo mostro non mi piace, se devo essere sincero. E cos'è quella parte lì? Vediamo, andiamo qua. Vai, sali. Eh, non ho la lanterna. Mamma mia, che tensione, raga. Speriamo che non mi veda. Guardiamoci la pancina qui. Eh, questo, quest'ultimo capitolo è veramente challenging. Vai. Vai. Sott'acqua non mi prenderai, sott'acqua non mi tenderai. vai 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 non mi prenderai ciao ciao amica mia grande govinda ce la possiamo fare certo non ho capito quella cosa del coso spero proprio di sì la musica sta cambiando raga iscrivetevi al canale se siete arrivati fino a questo momento alla fine del video vi dirò cosa ne penso di amnesia rebirth no non possiamo ce ne dobbiamo andare andiamo ciao ecco qui che se ne dobbiamo andare vai dove ci porterà questa cosa questa sembra una casa il finale questo è proprio il finale ci sono due porte quale porta abbiamo questa o questa prima questo dove c'è la luce va e se proviamo ad aprire questa questa non l'apre va bene qua c'è di nuovo la bambina mamma mamma un pollo scherzo e lo so che tutto scuro mamma mia ti vengo a salvare io non ti preoccupare andiamo lei andiamo a salvare che ne ti porti vai vai togliti ecco questo spostiamo questo via via tu non vuoi andare via va beh resta qua dai io ho delle cose da dire su questo gioco alla fine andiamo 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 corri corri scusa amari e non era la bambina che era dentro la sua pancia o forse questo significa che le sono rotte le acque vai 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 andiamo 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 a salvarla che tristezza no no vai 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 secondo me le sono rotte le acque ragazzi è incintissima nove mesi dieci mesi come una cavalla le acque le acque no no secondo me non ce la fai ti si sono rotte proprio le acque siamo ritornati nelle nell'ambara dam dai corri vai andiamo e dove dobbiamo andare fumo dov'è il fumo non vedo il fumo devo andare sono in trappa lo morirò qui abbiamo fallito il nostro sbavotaggio a firma del grande fratello vabbè scusa non è il grande fratello ma non mi interessa allora andiamo là oh sì grazie dove è sta tower Però guardate nel 2020 Bisogna andare qua? No no non bisogna andare qua Andiamo va Che ti succede? Proprio ste acque ti si è rotte Mi sembra la puntata di 16 anni incinta su MTV Non so se avete visto 16 anni incinta su MTV Vai corri Mi dispiace amica mia Eh non va Cioè tu non puoi adesso Far partorire la bambina In mezzo al nulla Cioè non c'è nessuno che ti può salvare Dai saliamo là sopra No stavo dicendo nel 2020 Non si capisce bene Che la sabbia non è fatta bene Io sono Sono curioso come sarà la sabbia Nella Playstation 5 no? Perché come vedete è una Una sabbia un po' strana dai Ecco questa Questo sembra la cosa del bambino Queste si che sono soddisfazioni Saliamo Vai sali 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 Andiamo al villaggio Speriamo che non ti si rompe di nuovo la Non dico non le acque ma Non fare la pupù No spero non faccia la pupù Ce la possiamo fare Cosa? Non funziona il cor- Vai vai corri 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 Corriamo Questa musica è stile Inception Secondo me non ce la fai Andiamo dai Sei così incita che rimane incastata lì Ecco ce la possiamo fare Ma è lontanissimo Ma no Andiamo dai corriamo Ti prego ti prego Lasciatemi in pace Non fatemi morire Questo è difficile Vai 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 Non cadere Ma sei così incinta che Tra poco si rompe pure la cosa lì Andiamo andiamo Ce la possiamo fare No la pancia No Cosa No io comunque a proposito di 16 anni incinta Io sono fissato con 16 anni incinta su MTV Fatemi sapere voi se vi piace Ora arriva adesso tutti i morti guarda Cosa ci scommettiamo raga Cosa ci scommettiamo Tutto rotto Qui li ha uccisi tutti Non ce la fai Sì 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 Andiamo 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 Bisogna andare dove c'è Io sotto questa scala non ci parlere Non aver paura Non aver paura Ce la possiamo fare Ma secondo me il cerino lo può accendere? Sì lo può accendere Che cretino Andiamo 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 Non ti preoccupare Eh quando la bambina No non parto lì adesso dai Dove devo andare? Qui? Dobbiamo salire qua sopra Secondo me sì Guarda Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Si entra in quella porta Quella porta vai Andiamo Dove ti trovi? Chi è? Sono tutti morti qui Sono proprio tutti morti Cosa? Questo è proprio Questo è quello che non ci voleva Mi dispiace Mi dispiace madre mary Non lo so però Sicuramente ti sei andata Sei andata a figare Forse alle Che devo fare? Chi è? 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 No. Non ucciderla. Come mi aiuterai? Ok. L'ho ucciso pure lui. C'è un po' qui? Il s'est all' broken up. La taur... C'est nous dans la taur. Elle nous a sauverait du désert. Qui est elle? Je ne sais pas. Un ghost... Un god. Elle voulait juste aider. C'est elle. Elle a fait ça pour nous. Il n'a pas besoin d'accéder. Taffy, elle a essayé de vous aider. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je suis désolée. Elle essaie de me prendre de nouveau. Nous devons être rapides. Ok. Adesso ti metterai a... Andiamo. Elle est arrivée. Je ne peux te sentir. Réna. 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 Gr копie root. Va. Réna. Réna. Réna Gil. Réna, serve? Réna. Réna tous... Réna tous. Réna... Réna... Réna tous. Dio. tempt cats. Chi la uccisa? Grazie. Grazie dottore. Ti ringrazio. Ho un trofeo. Rifugiata. Sta succedendo qualcosa. Grazie. Beh, se io fossi una donna, dopo avrei paura di partorire. Stay Tassi è il nuovo hype su Twitter. Hashtag Stay Tassi. Che devo fare, oh? Che devo fare? Cosa vuoi? Come spingo? Ah, devo guardare sempre a lui. Eh, sto guardando. Guarda, guarda a lui. E il bambino è nato. Cioè, dopo tutto quello che ha passato, questa bambina è nata. Scusate, ma cos'hai i denti brutti? Ha già i denti la bambina. Credevo avesse già i denti. No! Andiamo a salvarlo. Che cavolo stai facendo con la mia bambina? Andiamo dalla bambina? Che cavolo sta facendo con la mia bambina? Che cavolo sta facendo con la bambina? Andiamo, andiamo. Corri. Ma perché lei non corre più? No! No, non vomitare. Lascia stare la mia bambina. Amari. 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 Je suis amari. J'ai ma piele. Come si dice ti voglio bene? J'adore. Je t'aime. Qua! Qua! Andiamo, andiamo. Ti prego. Sì, quello se l'è portata via. Is there nothing you can do for him? It's strange. Like. It may be in control now, but... I don't think the last. I uh... I have Lord Man. I can help him. Laudano. Scusa, ma perché non corre? Amari! Lascia stare la mia bambina! Salim will be dead by now. Ecco qui Andiamo andiamo Corri 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 Lascialo in pace Cioè lei dà la bambina Al mostro Al fantasma Vai 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 corri Dai ma perché non ti alzi Vai vai andiamo Andiamola a prendere Ragazze ragazzi Stiamo per ritornare Il finale di Amnesia 2020 Corri Corri Vai vai Mio dio questi sembrano Momenti verissimi Cioè quando Ecco vai C'è queste Quando l'era incinta Aveva questa scimmietta E chi è che le sta Tenendo la mano Jasmine Dov'è Andiamo andiamo Un altro trofeo Madre Io non lo vedo Lasciamo in pace Vai Bene sali 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 Andiamo Ma questa è proprio sfiga No Che se fa raga Dov'è No nemmeno Si vai Sali Che sfiga Quanto sono sfiga Vabbè ciao Proprio sono stupido Stupido e sfigato pure Che se fa Andiamo Eh ma qui Siamo messi male Salim Chi è Ti prego no Di nuovo Quei mostri No Ti prego no Prendilo va Questo non lo apri Questo non lo apri E adesso arrivano di nuovo quei mostri Eh questa zona Quello non lo apre Stupido e sfigurato Stupido e sfigurato L'uomo Henk Will die Because of you We'll all die Don't listen Tazi It's alright Please Goddess Queen Whatever you are He's dying You know my terms Tazi Channel Have you changed Your answer No No I can't stay I can't give her up Then I cannot save you But I am not A monster I will give you aid Before you face the desert Cioè Mamma mia Hank ragazzi God of the devil Look 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 This wound It was closing Drink All of you It will sustain you in the desert The fountain We drank So Bevil anche tu No Oh no Wow Sinceramente Non lo so Sinceramente non lo so Speriamo Andiamo la Vediamo se possiamo salvare a Marie Questo non lo apre Andiamo qua raga Oh no What would your old dad Have made of this Tazi To stand here To have seen this place Almost a shame We have to leave I'm sorry I Couldn't Not after Alice Hey Hey I know I do understand And so Will Selim We'll find a way We still I I'm all right I I can't quite see properly It's something to the edge of my eyes Shit Cosa Cioè si stanno trasformando tutti Alla Alla fin fine qui Apriamo questo No lì non ci vado Andiamo qua Lì non c'è niente Qui ci sono queste cose che secondo me mi serviranno Quindi andiamo qua Andiamo a sinistra Un altro ricordo Cioè Hank ha bevuto quell'acqua Questo non può fare niente qui Apriamo questa porta Vai Non ce l'ho fatta Spero di essere nel posto giusto Secondo voi ci sono diversi finali? Secondo me sì Secondo me ci sono diversi finali Cos'è questa cosa? Questo? Non mi direi che devo portarlo e metterlo là? E dove lo mettiamo? Qui? Qui? Troppo lontano Non saprei Qui ci eravamo venuti? Non mi ricordo mica Ah di nuovo Ecco Un altro ricordo Taino 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 Closer than Kim Take these vials They contain my formula There are four major vitai flows into her tower Find the maintenance ports One vial should suffice for each Seeding the flesh Seeding the flesh into a flow Seeding the flesh into a flow should choke it Cut off her supply And wreak havoc at the factory outlets themselves But be wary The red flesh is volatile The red flesh is volatile And unless all the flows are stopped The constant cycle of pain and fear will continue And our penance will not end I know that if you succeed The tower will fall And we will not meet again in this world But perhaps If the true ancestors Deem that we have atoned for this great sin We may yet meet again In another place All my hopes go with you In all our names eternal Hmm Quindi There might be a way to end all of this But it doesn't sound like any of us would survive Purtroppo no Purtroppo no Vediamo se Non lo so Possiamo utilizzare questo? Questo non lo può fare Però non può essere Aspettate ragazzi Cioè questo qui era troppo corto No Non ci credo Ragazzi ho fatto tutto il giro del gioco Sono arrivato fino all'inizio Vai Mettilo da là Vabbè Adesso facciamo il giro E lo mettiamo là Vai Lasciami in pace Che devo fare? Va bene dai Quindi adesso possiamo ritornare là Secondo me la Amari non la puoi più salvare Ma dai Ma dai Chiudiamo Non mi vede 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 Ah 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 Non mi hai visto Fattene via Guardiamoci la bambina Guardiamoci la bambina La bambina non la guarda più Ok Forse possiamo salire Andiamo Andiamo a prendere l'ascensore Qui su Isola delle Rose Prendiamo gli ascensori Dove cacchio sono No no qui Andiamo Andiamo Ho fatto bene a nascondermi lì Sono felicissimo Da un lato è brutto Quando uno fa tante cose All'altro è bello Perché uno poi Cosa? No 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 Sali allora Quello lì La bambina ormai Perfetto dai Andiamo a salvare La nostra Amari Anzi La nostra Amaretta Ma la bambina è già nata Against the rest of us I could say it Sali Desi It has to be your choice It's your life I don't thank you I can't I lost Yes I won't Give up this child Dove? C'è qualcosa lì Ah lui è venuto da lì Andiamo vai Andiamo a salvare Amari Vediamo che disegno ci sarà adesso Ah di nuovo la scimmietta No questo qui ero io Non era il gioco E non lo so Amari Saliamo qui sopra va Prendiamoci la pallina La vita Chi potrebbe andare a casa Se posso trovare qualche vita E' sempre lì alla ricerca del vita No sali Salta 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 Apreti Ecco vai Oddio Eh non lo so cosa sei Ok Ok allora lasciami Facci andare a casa Giusto No non me lo ricordo Ok Quindi dobbiamo restare qui con lei Per sempre Per l'eternità Oh no Andiamo Seguiamola 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 dai Quindi lei è brava alla fin dei conti Cioè è come un demonio Io non ti credo Secondo me I told you that Vitai Would give her life But that she must Stay here You did not listen You would not give her up You would have died In the desert I had no choice But to make you into something I could control I would care for her I could be the mother I was meant to be Look at yourself Tazzy You have become a harvester Soon your mind will be nothing but hunger Oh no You can do no more for her But I can You must let me be her mother Mi sa di no Proprio no Here Amarie Sono qui Sono qui Sono qui Con il mio cuore Finalmente con la bambina Che carina La chiamerò Govindina Mamma è qui Ma tu sei malata Mi dispiace Vedi 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 Non hai tanto tempo Quando sei finita Vedi 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 Tieni premuto Per calmare il tuo bebè Ora le da da mangiare? La tetta? Dai sì Dai Oddio Ma dai Ma questo È troppo Non vuole mangiare? Non vuole mangiare? Se cerchiamo di andare a casa Potrei trovare un modo Di mantenerti Spera di sì Per sempre Per sempre Scusa Gli occhi sono già chiusi Quelli suoi Forse i tuoi Devono chiuderli Che bello Beh questo qui è stato un momento molto materno Adesso capisco perché Amnesia Rebirth Rinato Non piangere Non piangere Non piangere Andiamo Ce ne va Sì Scusa Tassi Come puoi proteggere Nel mondo? No No Non morire Non morire Non morire Io voglio uscire da questo incubo Con la mia bambina Con la mia babbuina Che vuoi ho? Scappiamo 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 da qui Va bene Devo fare Vai 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 Quindi adesso mettiamo Abbiamo questo Yes Adesso giriamo Vai Oh yeah Non mi dire che ne devo fare altri due Quindi Come? Come? No, lasciami in pace, lasciami in pace, lasciami in pace E vai a dormire, bambina Vai, vai Non piangere, bambina Non piangere, bambina Cioè, ce la possiamo fare? Se tu non piangi, io ce la faccio Bambina Se ti metti pure a piangere Secondo me ora muoio Ma dove devo andare, ragazzi? Devo andare là? Grazie, mi hai aperto una distanza Qui ce n'è un altro No, 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 no Rimettilo, rimettilo Che bello, quando la metti là La bambina non piange più Vai, apriti Eh, bambina Non piangere Stai in silenzio Stai in silenzio, dormi Adesso fra poco ti do la mia mammella E siamo felici, dai Giriamo sta cosa Perfetto Ci prendiamo questo No, aspetta Perfetto Giriamo Due E tre Muori, vai Perfetto No, ne devo fare quattro Io non c'ho voglia di farne quattro Stavo glielo, no Andiamo, dai Anche se non ho voglia di farle tutte e quattro Cosa c'è qui dentro No 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 Lasciami in pace No, non mi puoi uccidere adesso Ti prego Come faccio ad muovermi, oh Ora muore Beh, questa Ero molto curioso di vedere cosa Come sarebbe stata la L'animazione No, non lasciare la bambina là No No Che mamma cattiva C'è una mamma Cioè una mamma Voglio dire Molto motivata Per amare la figlia Ho un trofeo Tasi Un altro trofeo Mietitrice E' finito così What? Non ci credo Beh ragazzi Io adesso la salto Vediamo cosa succede Beh siamo ritornati Qui nella cosa iniziale Ma proviamo a fare Vediamo cosa succede Se clicco continua E poi vi dico Quello che penso Ok si ferma Dove io ho salvato L'ultima volta Perfetto Dove ho fatto quello Ok Ok quindi facciamo Tutti gli altri E adesso dobbiamo fare Tutti gli altri Cioè non so come però Non so come Ecco bambina Non piangere Non bambina Non piangere adesso Non piangere Vediamo se riusciamo A fare l'altro finale Perché quel finale Era il finale brutto Dove muoiono tutti Bene No 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 Non mi uccidere No No Di nuovo Cavolo Lasciami pace Lasciami pace Ci serve la vita Mettiamo la vita Mettiamo la vita Mettiamo la vita La vita Vai salta Vai Benissimo Benissimo Mio dio Forse ce la stiamo facendo Siamo salvi Lasciami in pace È un altro bel disegnino Prima un tasto per continuare Ok Ce l'abbiamo fatta La bambina La bambina ce la fa Ha quanti capellini neri Che carina Sembra la bambina Di Kid behind the camera Andiamo Siamo a casa Ok Siamo ritornati in Francia A Parigi Ora la interneranno Interneranno Bene Che si facciamo? Procacciatrice Un altro trofeo Ho preso un altro trofeo Procacciatrice È quello lì Ragazzi Questo qui Credo sia Il vero finale Di Amnesia Rebirth Interessante Che non possiamo Schippare Questo finale Ah no Questo lo possiamo Schippare Schippiamolo E magari se succedono Delle cose Ve le faccio vedere Ve le faccio vedere Un'altra animazione No Non c'è Benissimo Ragazzi Ragazzi Questo qui Era Amnesia Rebirth Vi ho fatto vedere Tutti i finali Penso Pro Di sì Fatemi sapere Nei commenti Se c'erano Altri finali Che non Che non Conosco Magari Li faccio Insieme a voi Nel prossimo video E niente Ecco Quello che penso Di questo gioco È tutto positivo Mi è piaciuto tantissimo Un'avventura Stupenda Ci sono Una storia Costruita Benissimo Forse Uno dei Horror game Più belle A cui abbia mai Giocato in vita mia Naturalmente Ci sono delle cose Un po' Magari nel finale Alcuni momenti In cui Ti dovevi nascondere A me non piacciono Tanto queste cose Preferisco Quando devi Correre Quando devi Trovare delle cose Però quando devi Portare degli Oggetti A random Da una parte All'altra Un po' Delle difficoltà Però oltre questo Il gioco Mi è piaciuto Tantissimo Vi ricordo Che uscirà Anche per PlayStation 5 Io ci ho giocato Per la PlayStation 4 Pro Niente La grafica Stupenda Ci sono Momenti Piccoli glitch Non so se Li avete notati Qui su YouTube Io li ho notati Però Però Comunque Bellissimo Mi è piaciuta Anche la colonna Sonora E anche questo Sentimento Di Perdita Che la Protagonista Si trova Ad affrontare Fin dall'inizio All'inizio Magari c'è Più che una Perdita C'è l'amnesia Appunto Amnesia Come si chiama Il gioco Che si è Titolato appunto Così E niente Poi c'è Questa bambina Amari Che Diciamo All'inizio Non si capisce Tanto Però A quanto pare Lei alla fine Qui nel secondo Finale È riuscita Ad arrivare A Parigi Non so come Con un portale Ecco E niente Credevo all'inizio Ci fossero A un certo punto Credevo ci fossero I UFO Vabbè E niente Ecco Mi è piaciuto Ecco Ve lo consiglio Vi ricordo Che su Isola delle Rose TV Troverete tutti Trovate tantissimi Indie Horror Games E Horror Games Che vi piaceranno Quindi guardate la descrizione Sulle schede Ve ne lascio qualcuno Andate a controllare Il canale Se non l'avete ancora fatto Se siete nuovi Iscrivetevi A Isola delle Rose TV Attivate la campanella Delle notifiche Perché presto arriveranno Nuovi video Vi ringrazio Di aver giocato Insieme a me È stata un'esperienza Bellissima E indimenticabile Govinda Vi saluta Pensa Giocando Grazie a tutti Grazie a tutti.